Allora, dai incominciamo, l'aula è piena di sviluppatori, benissimo. Allora, incominciamo con una sessione che vi anticipo già, una sessione che dopo è scontato che voi sappiate cosa siano gli Xpages, dopo è scontato che ci abbiate lavorato, pasticciato, e cercherò di darvi qualche suggerimento, qualche informazione in più, dato che mi sono scornato nello sviluppo in questi ultimi quattro anni su alcune, chiamiamole problematiche, alcune richieste che poi ho implementato. Allora, chi sono? Credo che lo sappiate, sono la Daniele Grillo, ho creato Domino Point nel 2004, la mia società è la Gridon Sass, sono il titolare, sono 12 anni che lavoro in questo mondo, quindi sono dalla release 5, amministro sviluppo e adesso faccio anche corsi per IBM Training e anche per Confindustria Venezia, i miei riferimenti, ma andiamo al menu del giorno. Il menu del giorno è questo, debug applicazioni, validation, exagent, performance, ck-editro, sessioni e logout, comandi, url, multivalore, attraverso relazionale, quindi integrazione notes che è una cosa, ex-pages relazionale che è una cosa che molti stanno incominciando a chiedere e hanno la necessità di dover realizzare, multi-language feature, nativo nell'ex-pages, e l'ex-pages inside notes client, quindi l'ex-pages dentro al client notes. Allora, parliamo di debugging. Voi sapete che sicuramente quando sviluppate in x-pages, una delle cose più, come dire, problematiche è che non c'è un Lotus Script debug. È un'applicazione che gira web, server-side. Ricordatevi sempre quando sviluppate un'applicazione di andare nelle application properties e attivare quel flag. Attivando quel flag, cosa succede? Succede che, come da videata, il runtime genera dove si è verificata l'anomalia. E vi dice, l'anomalia si è verificata, come in questo caso, nel button 1, in un controllo dentro l'ex-pages chiamato button 1, sull'event handler on click, e vi dice, vi sottolinea in rosso, qual è il tipo di errore. Questa roba qua, se ricordo bene, ma credo di ricordare bene, è stata fissata nell'8.5.2.fp2, perché prima veniva fuori tutto un XML a video con il runtime error. Quindi, un consiglio che vi do è quello di utilizzare l'ambiente con la release più aggiornata possibile. Quest'altra cosina, invece, permette di stampare su console un oggetto. Cioè, mi spiego meglio. Sto sviluppando il mio codice server-side-javascript, che immagino tutti quanti voi sappiate cosa sia, che è il codice che gira server-side. Ho dei casi in cui, premendo quel bottone, in quella fase di validation, in quel converter, eccetera, eccetera, voglio capire come quelle variabili che sto utilizzando si comportano e che valore hanno e di che tipo sono. Questo comando, underscore dump, dove gli passo la variabile che voglio tracciare, vi stampa sulla console domino, che cosa? Il typing, quindi il tipo della variabile, che è il tipo string, e il valore della variabile. Quindi, in fase di debug, è molto comoda. Ricordatevi però di toglierla quando andate in deploy, perché altrimenti avete la vostra console ricca di questi tipi di messaggi. Questo, non so se qualcuno di voi l'ha mai usato, la debug toolbar, molto carina. Allora, parliamo di OpenETF prima con Niklas. Su OpenETF è uscito questo tool, che in realtà è un custom control, che è la debug toolbar. In pratica, una volta preso il custom control, inserito nelle vostre application, e draggato nella vostra xpages, e mettendo il valore uguale a true di una proprietà di custom control, mi permette di vedere nella top bar del browser, quindi sotto, nel body iniziale, delle cosine, che è un po' come se fosse il vostro firebug, no? Il vostro, un simile firebug, però server-side. Quindi vi traccia lo stato delle singole variabili, e sul quale potete scrivere dei warning, delle informazioni. Avete già delle classi di server-side javascript pronti all'uso. Quindi potete scrivere delle informazioni di info, warning, debug error, che verranno scritte, non lo vedo, nella parte message. Se avanza tempo, ho preparato anche l'ambiente demo, e vi faccio rivedere queste cose live. Poi, un'altra, un simile dump, che in realtà scrive quell'oggetto che gli passo dentro un'area apposita, sempre, che non riesco a vedere in questo momento, dumping, dumping, vede dumping? No, non si vede. Comunque scrive in un altro tab, un'altra linguetta, che sarà a sinistra a questo punto, il vostro messaggio d'errore, e un timer, per tracciare il tempo di esecuzione magari di una parte di script. È molto comodo questo tool. Parliamo sempre di, abbiamo uno speaker famosissimo qui, per voi sviluppatori, che è Julian, Julian Rubischaud. Julian creò, è un, diciamo, per me è un idolo, perché creò OpenLog, che immagino che molti di voi utilizzano in ambiente Lotus Script, per tracciare in un punto, in un database centrale, le anomalie che si generano nella vostra applicazione. L'implementazione è molto semplice, e questo OpenLog, modificato da un altro guru, che è Matt White, che per il Guji, dentro Task Jam, che è free, ha inserito, modificato, in pratica, è utilizzabile, all'interno, del vostro codice, server-side JavaScript. Cioè, praticamente, modificando, la libreria fatta da Matt White, che è una libreria server-side JavaScript, modificando il DBPath, che è il puntamento, al vostro OpenLog, e utilizzando queste semplici istruzioni, server-side, voi traccerete gli errori, magari in un try-catch, all'interno di un database di OpenLog. Ok? La libreria di cui parlavo, SSJS, si scarica, da Task Jam, che è un'application, free di El Guji. Nelle slide, che poi metteremo su Slide Share, quindi non preoccupatevi, se non prendete appunti, tanto alla fine della fiera, tutto il materiale verrà messo online. Ci saranno tutti i link, per poter poi accedere, all'informazione online. Questo è appena uscito, è uscito il 6 di giugno. Questo, devo dire che, è un altro bel tool, che vi permette di monitorare, con questa Xpages, un po' di cosine. Un po' di cosine qua, cosa? Log NSF, tutto quello che viene buttato, nella diretta di IBM Technical Support, dove vengono fuori, alcuni tipi di errori. Questa roba qua, Workspace Log, è quando viene eseguito, per esempio, del codice Java, va in errore, quindi on-no server-side, non viene interpretato, intercettato dall'Xpages Runtime, e viene scritto, in un falettino, lì dentro. E noi riusciamo a vederlo, con questa interfaccina web. Lo startup.log, le informazioni di notes.ini, l'XpProperty, sapete tutti quanti, cos'è, è quel falettino, che se noi switchiamo, la visualizzazione, la visualizzazione, da Domino Designer, a Eclipse Designer, scusate, a Java Designer, o comunque sia, Page Explorer, è quel file di impostazioni, di inizializzazione, della vostra applicazione, che versioni di Dojo, stiamo usando, se c'è il Gzip attivato, se c'è il compression, del JavaScript, eccetera, sono scritte, in realtà, quelle informazioni, che noi andiamo a mettere, nell'application property, quella videata, di preferenze, dove noi sentiamo l'applicazione, in realtà, vengono scritte, in questo falettino, xsp.properties, e vengono scritte, in una certa maniera, che noi possiamo andare a leggere, con questo, con questo tool, Java Policy, per le autorizzazioni di Java, eccetera, 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 è appena uscito, è nuovo, l'ho appena installato, l'ho appena visto, mentre il resto, l'ho già provato, e consolidato, questo, non so darvi un feedback, se è stabile, o non è stabile, se funziona molto bene, da quello che ho potuto vedere, poche cose che ho potuto vedere, che ho potuto tracciare, sembra veramente, un ottimo tool. L'altra cosa, che probabilmente, qualcuno non saprà, è che c'è la possibilità, di debuggare, anche, del codice Java, che noi iniettiamo, dentro, la nostra applicazione NSF. La cosa bella, dell'Xpages, secondo me, è l'apertura verso Java, reale, cioè, cosa significa? Significa che, è vero che noi abbiamo, l'integrazione nativa con Domino, tutte le API di Domino, abbiamo, quindi praticamente, tutte le classi Lotus, ripeto tutte, con SSJS, dei comandi SSJS, ma la cosa più bella ancora, è che noi possiamo estendere, queste funzionalità, creare del codice Java, adesso lo vedremo, quando parleremo di PDF, se ricordo bene, di MySQL, eccetera, eccetera, possiamo creare il codice Java, iniettarlo dentro l'applicazione, e richiamarlo, il problema qual è? Che quando viene iniettato dentro l'applicazione, bypassa l'Xpages runtime, cioè, l'errore non viene tracciato, e non riesco a debaggarlo, come vorrei, è possibile però debaggarlo, facendo, chiedendo al vostro admin, o se siete voi admin, ancora meglio, si rende dei parametri su server, su notes.ini, che sono questi, quindi, l'attivazione del Java, del JVM enable debug, le opzioni di debug, la porta di debug, e poi c'è tutta una procedura, che è scritta, che è abbastanza lunghetta, poi da caricare poi nelle slide, che è scritta in questo link, per poter fare il debugging step by step, del codice Java. Questa cosa, non so se l'avete vista in giro, allora, quando sviluppate, di solito vi capita, a me capita spesso, di fare, di trovare una situazione in cui, ok, ho creato un, drag un componente, il componente più stupido, che ne so, l'input text box, no? dell'Xpages, quali metodi proprietà ha quel componente? Noi cominciamo a fare, facciamo get component, virgolette, il nome del componente, punto, e ne fa vedere alcuni, il helping, l'help assistant. Come faccio a sapere, quali sono veramente tutti, le proprietà e metodi di quel componente? Bella domanda. Prima risposta di IBM, andate sulle, API, a Java, che IBM ha fatto, sul, sul, come si chiama, sull'extension library, sull'extension API, scusate, che sono quelle videate blu, da già visti, che secondo me, sono già visti, riescono a muoversi dentro, avete presente quel menu, il frame a sinistra, cliccate, avete proprietà e metodi. Ecco, questo è un metodo per scoprire, quali sono i metodi. Il secondo modo è questo. In realtà, quando noi generiamo un xpages, quell'xpages viene, quell'xml che noi andiamo a compilare, voi sapete che quando draghiamo componenti in xpages, dietro c'è un xml, che viene costantemente aggiornato, con tutti i componenti e quant'altro. in quell'xml, alla fine della fiera, viene generato, non compilato, un codice, viene interpretato da un codice java. Cioè, ogni xpages ha una sua pagina java di riferimento. Come facciamo a vedere queste pagine java? Queste pagine java, praticamente, man mano che noi creiamo le nostre xpages, sono, e cambiamo la videata, e andiamo nel package explorer, sono praticamente, questo ramo applicazione, local, xsp, e la sfilzata di tutte le nostre xpages. Aprendo quella singola, quel singolo file, vedremo, in realtà, qual è il codice sorgente, che poi verrà compilato e buttato in runtime, da quell'xml, quindi parte l'xml, viene creato il file java, viene interpretato, compilato, buttato fuori. Questo è come gira tutto il flusso nel mondo xpages. Quindi noi individuiamo, per esempio abbiamo un componente, un button 1, chiamato button 1, all'interno della nostra xpages, vogliamo sapere quel button 1, in quell'xpages, che metodo di proprietà ha, come facciamo? Svizziamo la videata, andiamo sulla nostra xpages, una di queste, adesso non mi ricordo in quale era button 1, se poi parliamo di button 1, si parliamo di button 1. dentro lì, dobbiamo fare un, vi apre appunto il codice sorgente java, e fate un find and replace, di dove viene costruito button 1, quindi c'è una funzione, come in questo caso, create button 1. Vi posizionate, su, proprio selezionate, proprio col mouse, col cursore di selezione, il costruttore, che è questa classe, fate F4, e magicamente, vi appiare tutte le superclassi di button 1, con tutti i metodi di proprietà di button 1. E' molto più facile utilizzare questo, che andare a leggere, facile lo so, non è molto più facile, è un bel giro, però è molto più funzionale, diciamo, questo modo di lavorare, che andare a leggersi, la documentazione online, l'ha già visti, per me. Vabbè, se sviluppate in Xpages, chi sviluppa in web, ne avrà, sicuramente, ne utilizzerà sempre, perché saranno i loro amici, nel debugging client, e sono Firebug, per Firefox, lato, appunto, lato client, e la web developer toolbar, per i fogli di stile, righello, quant'altro, ispezionare il DOM, eccetera, eccetera, della vostra pagina, che viene servita al browser. questo oramai lo do per consolidato, perché è una cosa che chi sviluppa via web, ne avrà la nausea, soprattutto per debuggare lo script, che viene poi generato, anche questo è molto comodo, in Firebug, e per analizzare i cookie, eccetera, eccetera, uno strumento secondo me sottovalutato, e che io continuo a dirlo, da quando parlo, quando iniziai nel 2008, 2009, se non mi ricordo quando era, dell'Expages, è l'outline, l'outline, è comodissimo, quando vi trovate, a dover, riprendere in mano, la vostra applicazione, e non vi ricordate, come era strutturata, perché sapete bene, che l'idea di sviluppo, quando incomincia, il recchio degli elementi, incomincia a diventare, si incomincia a incastrare, si incomincia a rendere, non leggibile, finché si trattano, di due o tre componenti, bene o male, clicchi, capisci, però con l'outline, riusciamo a capire, perché lui mette in ordine, su tutti gli oggetti, appunto c'è un albero, dove ti dice, guarda che c'è un Expages, dentro l'Expages c'è una label, dentro l'Expages c'è un bottone, che ha un event handler, che sapete, l'event handler è l'azione, che farà quel bottone, che aprendo questa azione, c'è nel codice, server-side java, scritto in questo esempio, quindi riusciamo a fare reverse engineering di quello che avevamo realizzato, o che prendiamo in mano, perché mi è capitato di prendere in mano anche il codice fatto da altri, e quindi per capire cosa avevano fatto, dovevo fare reverse engineering. Domande sul debug fino a qua? Se qualcuno ha domande, le faccia ora, o taccia per sempre? No, sto scherzando. Ok. Parliamo di validation. Tutti voi sapete che, anche questo lo dopo è scontato, che un Xpages è una cosa un po' strana rispetto al mondo tradizionale di notes e domino, dove c'è una post, viene fatta una get, risponde il server, fanno la richiesta verso il server, risponde il server. Questo è il mondo tradizionale. Nel mondo Xpages c'è il ciclo di vita dell'Xpages. Cioè quell'Xpages, quando viene fatta la submit, quando è vergine, è nuova, va subito in rendering, fa la validazione, va subito in rendering. Quando invece va in errore o praticamente non è la prima volta che viene aperta, subisce, passa diversi tanti stadi, quindi passa dal convertitore, ripassa dalla validation, traduce gli elementi, eccetera, eccetera, fino ad arrivare a render response. Perché ho detto questa cosa? Non mi ricordo. Una di queste fasi è la validation. cioè la validation dell'Xpages è una fase di quando, che per noi non è nascosta nel ciclo di vita, per noi che draghiamo i componenti all'interno, ma che è la fase di validation. Cioè quel controllo, quando viene fatta una submit, che sia una partial update, che sia un submit reale, eccetera, eccetera, viene validata, può essere validata. Cioè ogni controllo che noi posizioniamo nell'Xpages può essere validato. La validazione può essere di due tipi, come noi vediamo, server side o client side. La attiviamo, la disattiviamo, sempre dall'application property, c'è un radio, c'è un radio button che dice usa le impostazioni del server oppure attivami quella client o attivami quella server. Usa le impostazioni del server, in realtà c'è un file Xp.properties pure lui caricato sul server che in realtà è remato, che se è sremmato utilizza per tutte le application le impostazioni da distribuire. Quindi, quello che appare semplicemente nel caso di validazione client side appaiono tante alert che oramai non credo siano in molte dove utilizzare. Nel caso del server side voi avete dei controlli che possono essere singoli dove selezionando il controllo selezioniamo l'oggetto a quale si riferisce il controllo di validazione o globali singoli o globali. Però la cosa che mi è successa è caro Daniele mi piace molto il sistema di validazione ma io quello che vorrei è un qualcosa di diverso. È un qualcosa che ok vai in validazione cioè tu hai fatto tutte le tue regolini di validazione quindi questo campo è validato secondo questa logica questo campo è richiesto obbligatorio eccetera eccetera io vorrei un sistema che in testa mi mette tutti gli errori e poi mi dà degli href che cliccando sul link mi si posiziona sull'elemento in cui ho dato un errore. Allora googlando trovate un custom control già pronto e vi spiego questo custom control già pronto questo custom control funziona in questa maniera dentro l'evento before open page load scusate before page load c'è un codice server side javascript che intercetta il tutti gli oggetti che sono andati in errore scusate tutti gli oggetti lo intercetta ok get cliented with message poi scorre da questi oggetti i singoli messaggi di errore genera un array pensatelo come un array json un array di oggetti e vengono gli errori scompilati in una certa maniera quindi sarà un array tipo in questo caso label due punti la label che è nata in errore errore due punti il tipo di errore e la boot è una variabile di view scope sapete tutti quanti che la variabile di view scope sono variabile che non abbiamo nel mondo tradizionale abbiamo nel mondo expager sono variabili che esistono fin tanto che l'expager esiste quando cambiamo expager ciao barale di view scope c'è un repeat control che scorre quell'oggetto e ci sono due campi calcolati nel repeat control uno che mostra il messaggio e l'altro che fa una cosina di non solo mostra il messaggio l'uno che mostra la label del campo ganato in errore e l'altro uno che mostra questo è un computed field che mostra la label del campo ganato in errore e l'altro che fa mostra il messaggio con l'href al campo ora andiamo avanti allora non si vede niente vero? allora cerco di farla molto semplice questo è quello che c'è nella before page load no? concettualmente prima che venga aperta la page fai la submit viene scatenata la before page load questa before page load cattura i messaggi li mette qui dentro in questa variabile messages prende le label di quei componenti alla fine della fila per farla in breve viene creata questa variabile che sembra quasi un json dove appare l'id del client id che sarebbe l'id reale che appare poi nell'xpages la label del controllo e il messaggio d'errore questa roba qua viene sparata nella variabile di wiscope e poi cosa succede? e poi ce l'ho lì pronta nell'xpages quindi siamo nell'evento prima che la pagina venga caricata quindi c'ho questo oggetto con questa serie di errori di messaggi se ci sono c'è questa roba qua è uno script javascript client che adesso non vedo cosa fa c'è un repeat control con le due combo box dove la seconda in realtà è una combo box ma sono andato nel sorgente ho fatto href qualcosa combo box slash a per generare poi il link href e ok mi manca una slide e poi la andremo a vedere in live mode a questo punto tanto tempo mi sembra che ce ne abbiamo anzi me lo sto bruciando andiamo più veloce altri tipi di validazione expression potete scrivere una validazione di tipo ssjs del codice perché la validazione semplice è un campo numerico è un campo numerico da 2 a 5 ok questo è un tipo è un campo testo si quante lettere ha da 1 a 5 ok quindi sono validazioni semplici è obbligatorio cioè è diverso da vuoto si e poi ci sono quelle che voi potete andarvi a scrivere se il campo x contiene quello il campo y contiene quell'altro allora fa retro true false ok oppure una cosa che spesso uso quando siamo nelle condizioni di essere comparate con una situazione di reg ex tipo la classica mail devo fare in modo che quel campo contenga una mail valida c'è una situazione di redex che posso scrivere e buttare dentro quel tipo di validation parliamo di xagent xagent allora voi sapete tutti quanti che sono gli agenti lo autoscript bene pensatelo come un paritetico nel mondo server style javascript o meglio nel mondo xpages in realtà sono delle servlet cioè vogliamo fare in modo che un xpages si comporti come servlet mi spiego meglio ho un xpages chiamata scrivi pdf serve pdf questo xpages cosa fa va su file system leggi un pdf e te lo butta fuori magari parametrica leggi pdf da questo un'inversa di d lui va a leggere il documento va a leggere tutto quanto il binary e te lo butta fuori è un xagent possiamo interpretarlo come un xagent come si fa però il problema è che il motore tradizionale degli xpages renderizza i contenuti in funzione dei controlli che appaiono all'interno degli xpages ma poi ti butta delle informazioni tipo la versione di dojo del leader del footer quindi va bloccato sicuramente il rendering render uguale a false in questo modo il contenuto è controllato dal nostro codice dal nostro codice che butteremo o nell'after render response o nel before render response un po' come gli agenti l'hotuscript quando voi scrivete l'agente l'hotuscript e incominciate a scrivere delle print ok ricordatevi solo che se usate un writer scrivetelo nell'after render response lo streaming se dovete servire uno streaming scrivetelo nel before render response quando finite diciamo le vostre print chiamiamole così anche se non sono delle print il vostro output concettualmente il vostro streaming di flusso dati che viene buttato fuori dovete scrivere questa istruzione strana questa istruzione strana se andate a leggervi il ciclo di vita del JSF perché l'XPage se ricordiamo che arrivano non nascono da nulla arrivano dal java service face e ha un suo ciclo di vita il ciclo di vita di una pagina finisce con questa istruzione response complete ok un piccola nota il problema che ho avuto nell'hotuscript 5 e 2 e che non hanno fixato con gli ultimi rilasci è che che gli X-Agent non sono concorrenti cioè se io ho un X-Agent 100 richieste che arrivano in contemporanea per esempio per assurdo spariamola di quelli X-Agent le richieste venivano seguite una alla volta quindi l'utente dall'altra parte era in waiting erano synchronized è un po' come gli agenti che se noi non fleghiamo nella configurazione del server che sono agenti concorrenti quelli web praticamente bisogna aspettare il tempo di esecuzione di un singolo agente in cascata affinché la richiesta arrivi al browser nell'hotuscript 5 e 2 purtroppo sono synchronized cioè sono vengono servite una alla volta nella 8.5.3 invece hanno in realtà non è vero quello che sto dicendo sbagliato non sono synchronized sono legati a sessioni per utente per database cioè mi spiego meglio l'utente che è loggato ha un session ID cioè ha un io sono Daniele Grillo ha un suo riferimento quando si collega a quella risorsa a quelli X-Agent la prima volta viene servito se in parallelo ne lancio un altro io devo aspettare che venga servita la prima per poi ricevere la seconda però se arriva Fabrizio Marchesano che è un altro session ID la risorsa viene servita in contemporanea questo metodo non andava bene perché? perché magari possiamo avere situazioni tipo richieste AJAX sulla stessa pagina contemporanee quindi io rimaniamo in waiting l'hanno risolta nell'hotuscript 5.3 ok cosa semplice semplice questa roba qua cosa che fa? ok sparafola un XML questo è un X-Agent che concettualmente se io richiamo quelli X-Pages quindi vado mi scrivo il mio URL barra barra quelli X-Pages questo è il codice sorgente vedete che c'è render uguale a false questo è il codice server-side che cosa fa? prende l'utente corrente prende la response che è il writer prende la response il writer scusatemi scrive nel leader della risposta quindi siamo nella fase del server in cui devi rispondere fuori qualcosa nel leader text HTML setta un'altra informazione di heading che è no cache così la richiesta viene sempre buttata fuori aggiornata e scrive un XML dove dice tu sei ciao Daniele Grillo quello che vedremo fuori concettualmente è un XML con due tag con un tag test sopra l'intestazione dell'XML che dice ciao Daniele Grillo se ricordo bene qua ho sbagliato perché manca lo slash XML per chiudere la cosa e poi alla fine della fiera chiudiamo l'Xagent con response complete altro esempio la richiesta è Daniele io ho bisogno bellissimo questa applicazione mi piace così via ma una cosa mi serve che cosa voglio che quella Xpages poi o quella cosa venga esportata in pdf ok come faccio io vi dicevo prima quanto era bello il mondo Xpages perché avevamo un'integrazione anche con Java un esempio è questo voi sapete tutti cos'è iText spero è una libreria open source per generare pdf e noi possiamo inserire iText all'interno del nostro nsf anche se non è la soluzione migliore serve quella di pacchetti lo vediamo dopo e sfruttare le librerie di iText nelle Xpages come si fa prendiamo il jar di iText in questo esempio che vi farò vedere è iText 2 in realtà adesso c'è iText 5 che cambia l'unica cosa che cambia è cambiano alcune istruzioni e cambia anche il tipo di licensing che questo era completamente free new eccetera eccetera quell'altro è agpl che significa che quando riusciamo in applicazione dobbiamo rilasciare anche il codice sorgente all'utilizzatore dell'applicazione in teoria in pratica poi non lo fa mai nessuno allora quindi passiamo alla prossima java designer quando vi dico di cambiare prospettiva sapete che dovete andare nel menu scusate che non lo vedo open prospected e switchiamo al java designer andiamo in un'area perché vedrete il vostro NSF è strutturato con Xpages le form eccetera eccetera tutte le informazioni che contengono in formato java e clips di quell'NSF c'è un'area che si chiama web content c'è una cartella sotto la quale c'è web inf dentro web inf noi creiamo una sottocortella lib ci draghiamo il jar modifichiamo il build path qua ho spiegato come si fa significa che in fase di compilazione del runtime il motore Xpages deve prendere anche quella libreria questo è un esempio possiamo crearci il nostro codice java che lavora con quella libreria questo è un esempio fatto verso un cliente una screenshot così alla buona che fa delle cose abbastanza anche interessanti e gli diamo un package java ok che sfrutta questa libreria ma non è obbligato non è indispensabile tant'è vero che nella prossima slide no scusatemi che non è indispensabile ma in questo esempio importiamo il package java nel server side javascript con questa istruzione l'istruzione del java import quindi import package ci permette di importare una libreria un package java che abbiamo inserito dentro l'nsf fatto questo possiamo a questo punto richiamare le nostre class i nostri metodi presenti all'interno del del nostro package in questo esempio invece facendo una cosa più diretta cioè preso dragato la versione 2 di di i text non creo la libreria java perché ce l'ho lì dragato l'ho messo nel build path quindi in compilazione ce l'ho faccio gli import package di i text che nella versione 2 e questo nella versione 5 è cambiato e utilizzo vedete le istruzioni di i text che in questo caso è crea un nuovo documento crea un writer che va con l'off to scriver che va con il documento questo è l'html worker che in realtà vabbè che c'era nella versione 2 che è poi stato rimpiazzato l'xml worker che è molto più affidabile per il rendering html apro il documento aggiungo delle informazioni al leader del documento praticamente uso delle classi di i text delle funzioni di i text creo la tabella eccetera 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 nella fine finirà sempre l'xagent con complete non sto a spiegarvi tutte le funzioni di i text perché sono ben documentate queste troverete una vagonata di informazioni su i text ma è quello che interessa che voi vediate è appunto l'integrazione java i text la possibilità di richiamare funzioni e metodi di i text di utilizzarli all'interno di un runtime x pages in questo caso un xagent e buttare fuori il contenuto e questo è notevole perché non c'è solo i text c'è la libreria per generare gli odf la libreria per liberare gli excel la libreria per dimene una per generare qualcosa c'è una vagonata ci sono una vagonata di libreria che possiamo utilizzare all'interno dell'environment l'altra richiesta è un caso fatto verso un cliente che lui dice bellissimo e così via ma è tutto quanto molto statico voglio una roba più dinamica cioè io vorrei che tu mi realizzassi un sistema a templating cioè io premendo quel bottone so che quel bottone è controllato da un template che governo io in html e parserizzando quell'html io voglio che venga fuori poi il pdf mi sono spiegato cioè mi spiego meglio voglio io ti ho l'html di come vorrei il pdf cioè voglio il banner in alto voglio la tabellina con due colonne voglio sotto le mie informazioni aziendali però voglio compilarlo io perché oggi mi chiamo gridan domani mi chiamo marchesan dopo domani mi chiamo pinco pallino quindi voglio essere dinamico non voglio chiamare te ogni volta mi crea un sistema del genere va bene mi informo come si fa il sistema migliore che ho usato anche se ha delle limitazioni è quello di prendere itext fornisce il creatore di itext fornisce anche un altro jar che si chiama xml worker che è una libreria che ti permette dato un html renderizzarlo e buttarlo fuori sotto forma di pdf però attenzione che ha delle limitazioni perché non supporta tutti i css cioè supporta la versione proprio base 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 del css 1.0 non potete fare cose strafighe no? e anche l'html dovete stare molto attenti al tag di apertura e chiusura dell'html e non usare magari istruzioni evolute tipo codice html 5 non potete usarlo qua dentro però se voi create che cosa? un rich text notes permette al client in cui rich text di scrivere il suo codicino il suo templating con questo motore andate a fare una get un format text di quel rich text prendete l'html lui scriverà l'html dentro quel rich text fate questa roba qua e lui butterà fuori poi il pdf renderizzato secondo quel template poi ovviamente nel caso di questo cliente abbiamo fatto cose più evolute abbiamo messo dei tag speciali dove li puoi mettere magari delle informazioni particolari che vengono servite in real time parlano sempre di xagent quindi abbiamo visto la generazione di un xml la generazione dei pdf se io richiamo quell'xagent molto probabilmente gli passo dei parametri nel caso del pdf per esempio per quel cliente in particolare io vi ho parlato di un rich text l'attacco rich text era il ck editor lui si compilava il ck editor faceva il sub metti il sub di quel ck editor e poi dovevo passare quel ck editor l'informazione di quel ck editor verso xagent come faccio? limite di questo se noi passiamo l'informazione del ck editor che magari può essere un html lunghissimo all'interno dell'url ti va ti dice l'url può gestire fino a 2054 bit non mi ricordo esattamente il numero comunque c'è un numero massimo che ogni browser che lo possa gestire quindi non posso fare una get devo fare una post quindi devo fare un'istruzione diversa a seconda di che istruzione faccio quindi avete capito che una get significa che richiamo una pagina con dei parametri quindi and pip uguale prodotto and cippa lippa lippa eccetera 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 quella per catturare quei parametri nel mondo xpages uso questa istruzione se faccio una post invece verso il server scusatemi rovescio questa istruzione per farci una get l'ho scritto ma poi ho puntato male se faccio una post usare quest'altra istruzione allora qui apriamo apriti cielo purtroppo ho avuto la sfortuna di lavorare dalla 8.5 quando sono uscita nelle xpages ed è stato un bagno di sangue penso per non solo per me ma anche per tanti di voi per problematiche di lentezza il designer che continuava a cresciare rompeva l'xml era un devasto più completo sono passati tre anni e la lentezza diciamo che in alcuni casi ce l'abbiamo ancora soprattutto quando abbiamo un'applicazione molto complessa molto ricche di xpages e succede che dragghiamo magari quella vista e incomincia a rallentare tutto andiamo nelle colonne della vista la vista è un componente xpages e scrivi a dopo 10 secondi appare la lettera A poi lui incomincia a pensare vedi il pallino sotto che comincia a caricare poi scrivi B eccetera eccetera per questo caso specifico c'è una spiegazione tecnica ovviamente che per me che ha spiegato i BM è che in realtà quando voi dragate un componente di tipo view all'interno della vostra coge sorgente lui in tempo reale continua ad andare a leggere dalla vista le informazioni quindi si viene rindicizzata si aggiunge una colonna eccetera 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 no? questa cosa rende quella pagina lenta però se voi gli cambiate sotto sotto se vabbè se gli cambiate sotto praticamente il data source e lo create lo create dinamico quindi fate che il data source sia db name del server e il path che vogliono andate a scrivere questa lentezza sparisce perché lui non sa più dove andare a puntare e quindi diventa abbastanza performante un altro tool quando avete questo quando prendete in carico applicazioni fatte da altri soprattutto o quando sono applicazioni vostre che non riuscite a spiegarvi momenti di lentezza che è sempre su PNTF è il profiling tool questo qua monitorizza CPU memory eccetera eccetera sapete che poi l'ex pages in realtà è una server di java che poi va a girare nel mondo domino quindi agisce molto dal punto di vista memory e ti dà praticamente sempre una bella videata con lo status della CPU qual è il codice che lo sta facendo andare in freezing eccetera 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 e potrebbe essere utile anche qua per il debugging queste due cosine qua sono nuove sono presenti all'853 se voi caricate nel nozzini queste due informazioni per esempio il vostro cliente ha un CRM caso tipico no? fatto in x pages quel CRM chissà perché la prima volta ci mette 30 secondi a essere aperto quando il primo utente arriva c'è anche qui una spiegazione tecnica ma se voi mettete questo parametro x pages preload uguale a 1 lui carica una parte di x pages runtime subito all'avvio di domino e se voi gli date anche questa informazione lui casha già quel database x pages e lo rende pronto per essere servito in modo che quando l'utente arriva la risposta è più efficiente più rapida l'altra cosa che vi consiglio di fare sempre quando incominciano entrare belle ciccione le vostre applicazioni è disabilitare il build automatico voi se ci avete fatto caso non so se avete fatto caso ogni volta che fate un saving magari a volte incomincia a pensare il vostro designer avete quella pallina sempre maledetta che comincia a fare il building se voi lo disabilitate e fate il building manuale diventa anche più facile per voi lavorare questa è brutta però purtroppo succede io mi sono accorto che lavorando sui server su alcuni server in cloud mettiamola così ho stati diversi miei clienti se io lavoravo anche se avevo la lan anche se avevo una comunità dalla misera eccetera eccetera avevo problemi di lentezza nel designer lo stanno migliorando però se voi mi fate una replica locale di quella applicazione vedrete che le performance migliorano so che non tornare quasi indietro nel senso che alla fine quando si lavora in team si lavora lo stesso server ma ci sono soluzioni alternative per poter lavorare in team che le spiegherà Frank giusto Frank è Wilkenmaker le spiegherà SV no René fa un'altra cosa c'è una sessione di Frank praticamente subversion sapete tutti che cos'è vi permette di integrare designer con subversion per fare le commit per avere le revisioning del codice eccetera eccetera per lavorare in team questa cosa qua è uscita la notte 5.3 ecco questa questa roba qua in realtà arriva da Dojo IBM ha fatto un bellissimo lavoro secondo me tra l'altro vabbè avevo dei piccoli bacchi poi l'hanno fixata nella fix pack 1 caricate tutta la vostra applicazione abilitate quel flag concettualmente cosa fa? fa il minimize e la compression di tutte le risorse javascript e css servite poi al browser questa maniera cosa significa? significa che siccome l'architettura che in realtà è Dojo è ricca di risorse css javascript che vengono scatenate e buttate sul browser il vostro browser ha una pipeline di 5 richieste alla volta nel caso di Firefox e avete un tempo di waiting proporzionale al numero di risorse che vengono servite quindi cosa significa? significa che per aprire un'applicazione a volte ci metti 20 secondi abilitando quel flag in fase di runtime vengono compresse cioè praticamente tutti i javascript vengono messi insieme minimizzati e tutti i css vengono minimizzati anche quelli presenti nei temi vengono minimizzati e buttati fuori magari hai da 30 richieste ne hai due significa che diventa un fulmine poi il vostro browser ck editor ck editor il vostro editor rich text mettiamola così in realtà sapete bene che via web non esiste il concetto di rich text perché comunque rich text è un qualcosa che nasce in notes cioè il rich text di notes è rich text di notes con delle API di notes il rich text web di qualunque editor web è un qualcosa scusate è un qualcosa di html che viene scritto in realtà dietro che poi notes cosa fa in fase di salvataggio decodifica come rich text mime infatti anche le vostre email se andate a guardare non solo rich text ma sono rich text mime che è rich text con dell'html dentro in questo caso comunque ck editor altri tipi di editor che sono full, large, medium e slim bravissimo quattro infatti non so contare quattro infatti ho scritto pure tre ma in realtà sono quattro lo correggerò prima di metterlo su slide share ok che praticamente l'effetto che hanno è dalla mega barra le creano e liberano dei componenti come si fa si va a selezionare all'interno del dojo della parte dojo aggiunge delle proprietà che non sono proprietà dojo ma sono proprietà che vengono aggiunte poi in run time in ck editor all'interno del del club proprietà che sono per esempio la toolbar type in questo caso 8 l'altezza width la larghezza di quel controllo ck editor in realtà ck editor è molto più cioè non è solo quello che vediamo qua se voi andate su ck editor che è un progetto open vedrete che avete altre feature che io per esempio nel mio cliente ho utilizzato perché aveva bisogno del codice sorgente di tirar fuori il source quindi come si fa? si fa un custom editor quindi si scrive del codice di questo tipo dove ci sono tutte diciamo i controlli di ck editor da includere in run time niente in questo caso font font size preview eccetera eccetera nella documentazione di ck editor c'è tutto ok allora alcune info su ck editor perché è un controllo un po' particolare non funziona dojo focus per esempio come nell'esempio di prima della ok come nell'esempio di prima come faccio a fare il focus sull'elemento con questa istruzione come faccio a leggere il contenuto quando parlo di csjs vuol dire client javascript quando parlo di ssjs ssjs server site javascript quindi così catturo il client la parte client e cotturo i dati i contenuti in ck editor tra la parte client e il mio javascript così invece cosa faccio così scrivo posso scrivere per esempio nella before page load il classico rich text del mondo client dove l'apertura è già impostato con dei valori posso fare la stessa cosa con ck editor inserendo nella before page load questa roba qua questa istruzione qua set value from sting e iscrivo il codice html poi posso aggiungere anche da client altre informazioni altri codici altro codice html con questa modalità la cosa strana che vediamo è questa che voi sapete che quando inserite questa roba qua cancelletto underscore id nome del componente verrà poi interpretato in fase di runtime con l'id reale che verrà servito via xpages voi sapete che l'id scritto nella vostra xpages che in questo caso è rich text field load non è l'id che poi apparirà sul front end perché poi lo convertirà con una roba tipo view due punti qualcosa due punti qualcos'altro due punti rich text 1 come faccio a sapere come si fa basta usare questa istruzione nelle mie vecchie sessioni degli anni scorsi sempre su slide share ci sono le versioni più introduttive sulle xpages che potete andare a leggervi che parlano di queste cose basilare io sono indietrissimo ho tre secondi veramente tre minuti allora sessioni e logout no fino all'undici e mezza giusto tempo ok ho ancora mezz'ora via allora entriamo più nel tecnico voi fate una login verso la vostra applicazione quando scade quella login come funziona il login c'è un cookie sì c'è un cookie ci sono in realtà due cookie uno scusate uno è session id che sappiamo che è marchesano o il grillo che si è collegato e che quindi il server sa chi sono io e chi è lui l'altro è cookie di sessione ammazzando il cookie di sessione ti richiede la login ecco una cosa nell'auto 5.2 purtroppo il session id veniva passato nell'url e questa cosa generava delle anomalie sul codice javascript nell'auto 5.3 finalmente il session id viene passato via cookie adesso quello che voglio è utilizzare l'extension library il controllo one we che è il controllo del template già pronto da ibm noi prendiamo lo draghiamo lo buttiamo dentro eccetera eccetera e quello che voglio fare non si vede lo so è data arriva solo quell'applicazione dove l'anonymous ha accesso in lettura c'è il bottone loggati lui si logga e poi dopo essersi loggato ti dice benvenuto pinco pallino come si fa? prendi il controllo lo draghi dentro vai nell'utility node crea un username user node quindi praticamente in alto crea nella linguetta del one we una roba che dice dimmi chi sei crea sempre nella parte utility link una roba che un controllino che si chiama login logout senza messo un'etichetta il problema è che è baccato quindi essendo baccato quel controllino non funziona nel logout come si fa? semplicemente creiamo un altro basic node basic node nodo basic nel quale creiamo una label di logout la quale l'href è questa roba qua che cos'è questa roba qua? prendi il percorso corrente fai il logout e ridireziona dopo il logout al percorso corrente quando è visibile quel bottone di logout solamente quando non sono anonimo se sono anonimo non vedo il logout vedo solo il login e viceversa tutti questi nodi di cui vi parlavo appunto sono presenti come proprietà del tema one we quando lo tragate dentro utility link vi dicevo i tre link user node login logout e basic node è quando parlavo appunto di href e rendere su due proprietà dei singoli nodi comandi urle xpages voi sapete che domino tradizionale è una vagonata di punti di domanda open qualcosa eccetera 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 open agio open view open document eccetera eccetera anche nel mondo xpages ci sono alcuni comandi fondamentali vi faccio vedere alcune cose che ho utilizzato per alcuni casi particolari in cui l'applicazione è renderizzata sia via modalità modalità xping che modalità web facendo slash session e valutati webdb name è una cosa molto familiare che vi dà il path corrente dell'applicazione questa roba qua è il dollaro-dollaro perché non chiedetemi perché anche ha il dollaro-dollaro come come comando urlo open document barra document xp manca una barra punti di domanda o punti di domanda document unit d universal id e l'action uguale open document questa roba qua scritta in un url fa l'apertura del documento xpages ricordatevi che però per poter funzionare se c'è una forma associata e ovviamente c'è una forma associata con l'università d dovete andare nel puntato della form questa è la mia vecchia sessione l'avevo scritto e dovete dire che quella form si apre con quell'xpages per creare un documento l'action è new document per creare un response document mettete il parent nell'url end parent id uguale l'università per cui eredita praticamente le informazioni attenzione perché non eredita in realtà modifica di un documento ma crea assolutamente il dollaro ref quando andiamo a salvare modifica di un documento sempre un altro modo una pagina corrente modifica il documento all'università d e questa è la sintassi per fare l'apertura di allegati all'interno di un documento richiesta dal cliente ascolta però io sono agganciato con l'applicazione perché mi va in time out dopo 30 minuti che è rotura di balla voglio fare una roba come google che quando si collega rimane sempre collegato quindi voglio fare una sessione persistente come si fa? avete l'extension library? si avete la create pack 1? si usate il controllo dell'extension library chiamato keep alive buttate quel controllo dentro lì quel controllo cosa fa? va a leggere il time outing impostato in xpages e prima che venga fatto il time out fa un ping fa una get in realtà verso una risorsa presente su server che si chiama ping avete a passare ogni xtempo ma se io non avessi l'extension library sono rovinato no in realtà anche se avessi domino tradizionale non saresti rovinato ma fa nulla non fa niente perché quello che potete fare è semplicemente creare un custom control con dentro uno script block che quando c'è il dojo ready ad un intervallo regolare lancia questo ping vedete che il ping è formato da il path corrente questa cosa strana che significa vai a puntare al direttore di domino domino sì che in realtà sotto data domino e prendi la risorsa ping fa una get una richiesta aiax praticamente temporizzata questa cosa qua fa in modo che la sessione non scada e quindi rimani sempre collegato sulla tua applicazione capi multivalore come li gestisco allora nativamente con questo sistema qua nativamente prendo il multiline nel massimo della vita lo butto dentro e definisco che il multiline è un controllo presente nella vostra barra dei componenti definiamo qual è il separatore di dei campi multivalore in questo caso è lo slash n che sarebbe il ritorno a capo però la richiesta del cliente era un'altra la richiesta è come faccio ad avere io vorrei che via web uno mi compilasse un ordine adesso l'ho estrapolato l'ho fatto in maniera più bruttina però quindi compilo delle cose dinamiche che io faccio dinamicamente aggiungi aggiungi e alla fine della fiera salva e mi va a scrivere in questo caso in quattro campi multivalore codice descrizione qualità e prezzo a livello fisico poi nel back end si può fare si come in questo modo sempre nella before page load mi creo che cosa una variabile di view si una session una di scope di scope si di scope view che alla prima apertura rimane a zero quindi con un array a zero nel caso apro un documento corrente nel caso apro un documento che ha dentro quei valori vado a leggere quali sono quei valori e mi creo un oggetto di array contenente quei valori creo un repeat control faccio il bini dei dati guardiamolo la prima fase la prima fase è quello che faccio quello che faccio è prima che la pagina venga aperta istanzio un oggetto a vuoto il documento corrente che sarebbe data source è nuovo si allora facendo usando l'opzione push creo un array di un elemento solo con codice uguale a zero descrizione a vuoto quantità zero prezzo zero altrimenti non è un documento nuovo cioè io sto prendendo un documento che va già ai campi multivalori settati con i quattro campi cosa faccio vado a prendere il documento vado a prendere il campo codice mi creo quattro variabili che sono le quattro colonne scorro il campo codice che sarà composto da uno a n elementi compilo e creo un array di n elementi in base a quanti sono gli elementi inseriti nel campo multivalori in back end alla fine della fiera scrivo in una variabile di scope di view scope chiamata prodotti il valore di questo oggetto che nel caso nuovo ha questo valore nel caso esiste già l'oggetto nel back end a quest'altro valore questo è quello che vedi poi nel designer e quello che aggiungiamo in più è che nel designer cosa gli dico il repeat control cosa deve scorrere il repeat control sapete che un oggetto che poi scorre qualcosa che gli passa in input scorre la variabile di scope gli dico che ogni singolo entry si chiama prodotto ogni al massimo vengono fuori 30 righe posso aggiungere un pager per andare avanti delle 30 righe è in fase di query save che cosa succede il rovescio della medaglia cioè in fase di query save ho questa variabile in memoria che questo oggetto di view scope in memoria prendo quell'oggetto lo spacchetto e lo sparo nel back end detto così è molto semplice prendo l'oggetto creo praticamente dei singoli array di quell'oggetto e vado a fare la classica funzione replace system value del campo del back end col valore dei singoli array ok perfetto allora parliamo di relazionali sicuramente sarà capitato anche a voi che molti vostri clienti vostri clienti la vostra azienda insomma chi per esso io vorrei però un'interfaccia che si parli con noz ma soprattutto si interfaccia anche con relazionale come faccio allora non c'è problema prima dell'extension library in realtà prima dell'extension libix che sono la parte relazionale devi fare le cose a manina ed è quello che stiamo vedendo prendo il driver del relazionale lo posiziono sempre in quella folder chiamata bin ricompilo il build pad come nel pdf creo il mio codice java uso l'import package per lavorare con quel driver con il codice java che mi sono creato come interfaccia verso il driver attenzione perché non supporto il connection pool questa roba qua cosa significa non supporto il connection pool significa che il connection pool è se io ho un'applicazione e ho quella applicazione che si collega a db2 e quell'applicazione voglio fare in modo che a prescindere l'utente che si collega apra un tunnel dove arrivano 10 richieste e mi chiuda quel tunnel solo quando siamo in timeout quello si chiama connection pool cosa significa? significa che non fai un apri chiudi apri chiudi apri chiudi per ogni utente che si collega ma è un tunnel aperto poi c'è tutta una filosofia su connection pool questo tipo di implementazione senza l'extension library non supporta il connection pool quello che devo fare creo il codice java quindi dragata la libreria dentro webinf poi in questo caso la vediamo qua perché ho fatto il build path il build path ho creato vabbè qua non si vede sotto qua c'è il codice java che vediamo sulla destra il nostro package questo page vabbè concettualmente si collega al driver ed espone ah no ed espone una funzione chiamata execute query collegandosi al driver quindi praticamente quello che faccio chiamando questa funzione passando di dei parametri opportuni lui si collega al mio database con username e password fa una query e mi restituisce un result set questa roba qua poi aspetta un attimo questo è il package si questo è il codice ssgs si questa query viene lanciata e viene viene lanciata non vedo dove connection username eccola qua punto sl query qua questa query viene lanciata ad un certo punto riceve l'rs che è l'output di quella chiamata scorro il result set e scrivo praticamente da qualche parte il result set ok la variabile out sempre con ho questo oggetto non ho più la variabile di scope chiamando quindi questa funzione server side che si interfaccia su volta con java che si interfaccia su volta al driver ritorno questo result set e quello che faccio è visualizzare il result set e posso anche con una combo box che rifiltra con un partial update il contenuto sottostante usare una query dinamica ogni volta però questa roba cosa fa? ogni volta che noi in questo caso cambiamo la combo box rifa una get aperto apri parla db2 rispondi chiudi db2 è un continuo aprire e chiudere le sessioni non è un connection pool connection pool presente nell'extension libix l'extension library non è presente nell'upgrade pack 1 nell'upgrade pack 1 non chiedetemi perché ma credo perché se non sia ancora ufficialmente stabile o supportato l'ibm sapete che l'upgrade pack 1 è un avanti 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 che è una solo extension library che ibm supporta nel caso avete un problema potete aprire una pmr ok? per utilizzare i relazionali con l'extension library dovete non utilizzare l'upgrade pack 1 ma utilizzare l'extension library così come sono su open ntf se avete un problema sono affari vostri cioè nel senso che alla fine avete un problema non potete chiamare ibm e dire che c'è un'anomalia sull'extension library su il relazionale quindi mi raccomandate l'utilizzo di ci sono una vagonata di sigle concettualmente osg è un metodo per pacchettare il vostro codice e renderlo diciamo fruibile dinamicamente da più applicazioni vanno installate l'extension library su server è semplicissimo da usare questo tipo di implementazione perché sono controlli già pronti e supporta il connection pool andiamo avanti questa roba qua vedremo che verrà scritta poi ecco una cosa sull'extension library è molti cosa facevano installavano il driver dentro qua il jar non è raccomandato perché perché non è raccomandato perché innanzitutto richiede da voi il programmatore l'accesso a file system e poi perché è meno dinamico e non supporta il connection pool e non supporta il connection pool nei miei esempi buttavo il jar dentro l'nsf ma attenzione che facendo così se ho innanzitutto creo faccio in modo che la java virtual machine istanzi più heap di memoria però se magari questi heap di memoria sono l'utilizzo di questo jar che magari è deduplicato in tante istanze nsf e poi va toccata la java policy per dargli grant quindi l'autorizzazione eseguire quel codice la cosa raccomandata è che quel driver venga pacchettizzato e venga buttato dentro l'osg plugin che è l'update concettualmente se avete visto vedrete che si installa con l'extension library in questa maniera supporta il connection pool e dinamicamente lui riesce a gestire anche la memory della jvm dell'extension library del driver manager esempio molto semplice come prima mi collega a mysql quello che devo fare con l'extension library è dentro il ramo webinf creo una cartella jdbc dentro questa cartella creo pincopallino punto jdbc in questo caso mi sto collegando a mysql l'ho chiamato perché lo voglio chiamare io mysql jdbc gli dico qual è il driver da utilizzare gli dico qual è l'ur di connessione qual è la username e qual è la password fatto questo prendo il controllo scusate creo un data source quando installate l'extension library c'è questo data source e in quei data source gli andiamo a dire gli andiamo a dire qual è l'acquiri da lanciare c'è una proprietà che adesso qua è tagliata di qual è l'acquiri da lanciare basta non devo fare nient'altro funzioni inserimento aggiornamento eccetera eccetera che vengono rilasciate con l'extension library quindi quando lo installiamo funzioni chiocciola server side questo è il nome in questo caso dovrebbe essere mysql sarebbe il nome dell'oggetto jdbc che io ho creato dentro la cartellina pinco pallino la tabella e la query multilingua cambiamo completamente l'argomento sapete tutti quanti che cos'è il multilingua sapete che l'expagia sta nella localization option ne ho parlato nelle vecchie sessioni e sapete anche che quando attiviamo il multilingua si attiva sempre da questa cosa semplicissima dell'application properties l'unico lavoro che dovete fare per il 90% della vostra applicazione è tradurre dei file punto properties della lingua opportuna poi cosa fa? il browser quando si collega intercetta il content l'asset language del browser e ti serve la pagina con la lingua tradotta questo è nativo quindi ho tutto un automatismo che fa il mondo delle antigenze pages però come faccio prima problematica in fase di sviluppo come faccio se ho del codice server side che dinamicamente butta fuori dei messaggi per esempio delle alert mettiamola così ancora più semplice in realtà sono solo delle alert dei messaggi come faccio a tradurre quelle cose lì? una soluzione potrebbe essere quella di creare un componente label quindi lo draggo all'interno del mio xpages lo rendo invisibile e gli metto la lingua sorgente e poi con il classico sistema di traduzione lo vado a tradurre questo è un workaround una soluzione la soluzione più difficile invece è questa io ho una vista che mi porto dietro che io ho scritto nella vista io mi chiamo user name e chioccio user name picco pallino nella prima colonna della vista quando prendo l'oggetto vista quindi l'ho fatto in notes prendo l'oggetto vista lo butto dentro un xpages io mi chiamo il contenuto di quella vista non viene tradotto perché lui va a prendere il back end come faccio? devo farlo in modalità front end sappiamo tutti che abbiamo dojo come framework di riferimento facendo il dojo query andiamo a intercettare i nodi della mia pagina intercettando i nodi e facendo praticamente questa istruzione che dice dimmi la lingua con la quale sei collegato è in inglese sì allora fammi una find a replace in questo caso della da ciao a ello se il browser che si presenta è in inglese in questa maniera cosa succede la pagina viene servita in realtà in italiano però prima che vengano servita c'è questo evento dojo che vuol dire che per noi è invisibile ma se disabilitiamo il javascript lo vedremo che passa su quella pagina legge il contenuto della vista e fa la replace ci sono due eventi perché ne ho messo i due? perché se voi andate a leggere tutta la documentazione JSF eccetera eccetera i due eventi l'after page load e l'after restore view questo viene caricato solo la prima volta e questo viene ricaricato a ogni partial refresh che viene fatto all'interno di quella vista questa cosa qua è molto bella l'ho pubblicata su Zoomino Point ed è un blog è un si è un blogger è un svizzero che ha fatto un java bin quindi il codice java consettualmente che dato una combo box selezionata la lingua della combo box dinamicamente traduce il contenuto senza cambiare l'impostazione di lingua del browser sfruttando il motore x page nativo di traduzione quello che mi interessa che voi capiate è che potete appunto fare dei java bin potete agganciare il java bin con questa modalità che è il suo package che ha creato questa è la combo box che sul cambiamento scatena che cosa allora innanzitutto il valore di questa combo box mi è scritto una variabile di scope e qui c'è adesso ve lo trovo ok questa istruzione che setta la lingua in funzione della combo box view set locate get language cattura della variabile di scope immagino si della variabile di scope il valore e lo butta lo comunica al server praticamente intercede al sistema di rendering si mette in mezzo e gli dice quella combo box la spari via back end ti dico che è questa e lui traduce poi la pagina in funzione di quella combo box allora abbiamo parlato parliamo anche di xping xping è voglio avere la stessa interfaccia nel client notes e via web quindi voglio avere due applicazioni completamente uguali voi sapete che IBM annuncia abbiamo xping quindi abbiamo concettualmente xrunner che sarebbe un firefox embeddato dentro al client notes potete usare quello allora funziona quasi tutto dovete stare attenti solamente ad alcune istruzioni client javascript magari troppo moderne per quel tipo di runtime che è firefox 3.6 è comodo è vero unica interfaccia come faccio a capire se sono in xping mode o non in xping mode nel codice service site javascript uso questo io l'ho usato per esempio per un caso strano di un cliente in cui si voleva nel caso eri collegato via online l'accesso diretto al relazionale nel caso eri collegato in offline l'accesso ai dati notes in locale la cosa un po' strana però comunque sia il concetto è che per fare questo controllo ho usato questa istruzione funziona le repliche anche in xping mode l'unica cosa che purtroppo un cliente mi ha segnalato e con la quale non ho ad oggi una soluzione è che se voi abilitate xping e accedete direttamente al server domino vedrete che ogni get sono 10 megabyte che vengono trasferiti perché ho ispezionato il traffico che viene fatto e mi sono accorto che la get non è come la get di un browser ma lui si porta dietro tutta la struttura java xml e così via in questa comunicazione e se la ricompila fa il runtime quindi occhio solamente a quando un vostro cliente si deve collegare direttamente al server se la banda che avete disponibile non è una lan ma è una vpn a 2 megabit per esempio utilizzate piuttosto la replica fatelo lavorare in replica se usate xping in locale questa è una serie di altre risorse utili che vi consiglio darà vedere questa x snippet che è quella di openetf con tanti tips e tricks stackoverflow è nuovo ma è molto ricco di persone che fanno delle domande e rispondono ci sono dei blog ci sono delle persone come Julian delle persone che sono anche più presenti che rispondono alle domande il forum ufficiale IBM che in realtà c'è qualcosa x snippet blog x snippet infos notes nice sono dei video interessanti su come fare determinate cose e questo è il blog secondo me che è più geniale che è asselba.ch non ricordo il nome is when qualcosa che pubblica delle soluzioni interessanti tipo quella della combo box in multivalore e ti spiega come funzionano aspettate che vediamo quanto tempo ho meno 7 minuti il mio tempo è finito quindi non ho tempo per la live però io sono adesso non ricordo l'agenda di oggi come sono messo io ho una sessione panagenda da fare e poi mi trovate al desk panagenda se qualcuno ha bisogno di approfondire e chiedere sono là vi faccio delle live mi spiace perché in un'ora non si può far vedere tutto grazie 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 grazie